Un piccolo passo avanti. Nel caso Magherini, la Corte Europea dei diritti dell'uomo ha aperto un procedimento a seguito del ricorso presentato dai familiari di Riccardo Magherini, morto in strada a Firenze il 3 marzo del 2014 per arresto cardiocircolatorio dopo essere stato ammanettato e messo prono dai carabinieri. Il primo atto della Corte Europea è stato quello di chiedere chiarimenti al governo italiano relativi alla legittimità della tecnica di fermo usata. Per la morte di Magherini sono finiti a processo tre carabinieri assolti nel 2018 con sentenza della Cassazione. Nell'interrogazione al governo la Corte di Strasburgo chiede se l'uso della forza da parte dei carabinieri sia stato necessario e proporzionato al raggiungimento dello scopo, se le autorità italiane avessero fornito agli operatori una formazione adeguata a casi del genere in grado di evitare abusi e trattamenti inumani e se lo Stato italiano sia dotato delle misure legislative, amministrative e regolamentari che definiscono le limitate circostanze in cui le forze di polizia possono far uso della forza. Per il legale della famiglia Magherini, l'avvocato Fabio Anselmo, si tratta di un atto fortissimo. La Corte chiede all'Italia spiegazioni stringenti, dice Anselmo, sia sulla morte di Riccardo che su come è stata amministrata la giustizia sul caso. Sempre la Corte definisce quello di Riccardo un caso di importanza primaria di quelli in grado di costringere lo Stato che subisce l'accertamento a effettuare modifiche nella giurisprudenza o nella legislazione.